Ciao bambina, con i bambini ho questo rapporto di odio nei confronti dei bambini, la razza dei bambini, il bambino appartenesse a una razza particolare, come se restasse bambino, perché un bambino, chi lo è bambino? Chi lo è bambino è grecio, 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 ma vedi che sono gara da te, guarda là, no, girati dall'altra parte, se no non ci credo. Questo qua è il bambino, il problema è che io vengo già così i bambini, e qualcuno, a questo qua, quando ero bambino, perché tu sei stato bambino, qualcuno quando ero bambino ha tenuto un buon coraggio e dicevo, quando ero bambino, sono bambini, andate là, così si fanno i bambini, tu così lo fai. Quindi vorrei, se fosse possibile, raccontarvi delle favolette. Come ti chiami bambino? Eh? Leonora. Eh? Leonora. Eh? Leonora. Eh? Leonora. E eccoci, so tre orso dicendo, è Leonora. Improvvisamente c'è Cappuccetto Rosso. E lo sai, non? Eh? Nel bosco. La nonna parte la mamma sta in due boschi. C'è, c'è, Cappuccetto Rosso, mi dimentico una nonna. La nonna parte la mamma sta in due boschi, la nonna parte lo pazzo sta in due cesso. C'è? Puoi anche venire. Ah, lo sai, se ne chiudo poi. Ma grazie, ma troppo gentili. Grazie, grazie. Meraviglio. Parla, parla qua con me. Parlami vicino. Ok, eccoci qua. Però voglio dire, lei ha fatto tante cose, abbiamo visto prima nella clip. Non darmi di lei, ti prego. Tu. Abbiamo la stessa età. Sì, infatti, a meno. Comunque, sto dicendo, quindi si arriva anche a questo, l'anno scorso. Qua si arriva anche. Andare un po' in così, adesso. Sì. I bastardi di Pizzo Falcone, qua volevo arrivare. Ah, sì. In senso, ha fatto tante cose. Sì. Oltre a quello che abbiamo visto, alla sua comicità, eccetera. Sì, è stupato, dice tu. No, no, è vero, è capitato anche di fare cose un po' più nobili. Sì. Ecco, quindi è un percorso particolare anche il suo. Tra l'altro, lei ha fatto anche... Non darmi di lei. Ce la facciamo? Sì, ce la facciamo, stasì. Sì. Sì.